Salve ragazzi e benvenuti nello speciale di Natale del mio canale! D'altronde penso l'abbiate capito visto che sto indossando un berretto di Natale. Comunque se sono riuscito a caricare questo video in tempo, spero che stiate passando o abbiate passato un bel Natale. Ma, come avete letto dal titolo, questo non sarà un semplice video di Natale. Quindi non perdiamo tempo e cominciamo con questo video. Ma prima... Sigla! Bene, ora che abbiamo un'atmosfera più confortevole, almeno per me che sto registrando, vorrei farvi notare una piccola riflessione sulla festa del Natale. Per la maggior parte dei bambini, il Natale è una festa molto aspettata e tutti non vedono l'ora che arrivi Babbo Natale a farli visita. Purtroppo, però, per il 13enne Evan, era una festa da temere. E Evan, chiederete voi? Beh, è semplicemente il protagonista della storia che vi andrò a raccontare. Egli ricordava ancora chiaramente la sua settima vigilia di Natale, una serata che, come la maggior parte dei bambini, non vedeva l'ora da molto tempo. La mattina dopo si sarebbe alzato presto e avrebbe aperto tutti i suoi regali, desideroso di vedere quali sorprese Babbo Natale gli aveva lasciato. Ma quella vigilia di Natale non andò secondo i piani. Non passò molto tempo prima che l'eccitazione di Evan lasciasse il posto all'orrore. Sua madre aveva insistito sul fatto che Babbo Natale non sarebbe venuto se fosse rimasto alzato fino a tardi, e gli disse di andare a dormire, quando improvvisamente lui fu distratto da un forte rumore sul tetto. Sembrava arrivare direttamente da sopra il camino. Egli si avvicinò al camino per vedere quale fosse il problema. Era possibile che Babbo Natale aveva deciso finalmente di apparire? La cenere stava cadendo dagli angoli e dalle fessure del camino, emettendo fumo e un odore di bruciato. Qualcosa, anzi qualcuno, doveva aver provocato tutto ciò. Il camino tremò e una voce profonda si sentì nell'aria. Il famoso tormentone di Babbo Natale, ho ho ho, è che già lungo il camino, mentre Evan osservava con gioia. Tutti rimasero in silenzio per un momento. La madre di Evan era in piedi dietro di lui, a guardare. All'improvviso ci fu un'esplosione di fumo grigiastro, mentre montagne di cenere cadevano sul fondo del camino. Sembrò quasi che ci fosse un improvviso terremoto. Poi, tra il grigiore, ci fu un lampo rossastro e un tremendo tonfo. Babbo Natale ce l'aveva fatta. Evan si precipitò in avanti, incapace di fermarsi. Provò un attimo di eccitazione, ma sua madre andò per prima al camino. Egli cercò di ricordare l'ultima volta in cui lei era stata contenta, ma non ci riuscì. Quando il fumo si diradò, apparve la figura. Non aveva abbastanza pancia come Evan si aspettava, ma questa era l'ultima delle cose importanti. Egli rimase a bocca aperta quando vide che la barba di Babbo Natale sembrava scivolare via durante la caduta. Ma non c'era sangue. L'unico sangue veniva dalla testa di Babbo Natale, ma era solo un goccio. La cosa brutta, però, era che la macchia di sangue proveniva da quella che sembrava una grossa botta sulla testa di Babbo Natale. Evan pensò, Babbo Natale non poteva morire. Era troppo buono per quello. Non poteva morire, o almeno non ora. Quindi qualcuno gli aveva fatto un brutto scherzo? Evan lanciò un'occhiata alla barba che sembrava scivolare sul viso di Babbo Natale. Le barbe non si muovevano così, pensò. Quindi, se non era una vera barba, doveva essere una barba finta. Ma se quella era una barba finta, allora anche l'abito di Babbo Natale era finto. Questo non era il vero Babbo Natale. Evan lanciò un'altra occhiata ai fintilinamenti di Babbo Natale, cercando di capire chi potesse essere quella persona, quando riconobbe il viso tanto familiare. Si rese conto che la mamma non era mai stata entusiasta, invece si era precipitata dal finto Babbo Natale per la disperazione. I singhiozzi la tormentavano il corpo, e le sue lacrime gocciolarono sul finto costume di Babbo Natale. Evan rimase in piedi sbalordito, ed emise una sola parola. Pa-pa-papà? Evan si svegliò sudando freddo, scagliandosi in posizione seduta. Diede un'occhiata all'orologio e lesse l'ora. 2.19 Prima che la luce del suo orologio si spegnesse, lesse la data. 20 dicembre. Solo altri 5 giorni fino a Natale. Una volta, Ellie sarebbe stato contento di questo, ma ora desiderava che il Natale non arrivasse mai. Era di nuovo lo stesso sogno, accurato in ogni dettaglio. Quella sera era esattamente come era stato nel sogno. Ellie non smise mai di stupirsi di quanto fossero vividi e precisi questi sogni. Sono andati fino in fondo e l'hanno costretto a rivivere il momento peggiore della sua vita. Quei dannati incubi pergioravano sempre intorno al Natale. Avrebbe infatti sognato quella fatidica sera in cui suo padre era scivolato e caduto giù dal camino, rompendosi la testa durante la discesa. O avrebbe sognato quegli artigli, quelle strisce affilate come un rasoio di ossa lucide, armi che avrebbero potuto attraversarlo come burro. La maggior parte dei bambini è cresciuta credendo in Babbo Natale, arrivando ad accettare che quest'ultimo fosse solo un altro mito inventato per rendere felici i bambini, ma non Evan. Ne era stato sbalzato fuori, la sua convinzione fu frantumata dalla tragica morte di suo padre. Lui stava solo cercando di sorprendere il proprio figlio, ma aveva fatto molto di più. Lo aveva segnato in modo irreparabile. E ogni Natale Santa Claus, così lo chiamava, continuava a perseguitare Evan. Egli era convinto che Santa Claus era una specie di demone in forma umanoide. Non era assolutamente umano, era una specie di entità soprannaturale, ma aveva sempre pensato a lui come a un demone. Santa Claus era nella vita di Evan da quando suo padre morì, e sebbene fosse per lo più assente durante l'anno, sarebbe tornato intorno a novembre, forse alla fine di ottobre. Quando si avvicinava a Natale, beh, allora diventava sempre più persistente. C'erano gli incubi per prima cosa, e le visioni. E non mancavano le convunzioni durante il periodo natalizio, quando Santa Claus era nel suo peggio. A volte Evan aveva attacchi di panico che sembravano venire dal nulla, e non c'erano dubbi su chi li avesse provocati. Evan non era estraneo al bullismo a scuola a causa delle sue convulsioni e della sua forte antipatia per il Natale. Santa Claus lo aveva messo a dura prova. Lui sapeva che questo demone in qualche modo aveva innescato la morte di suo padre. A volte pensava anche che questo fosse in realtà il fantasma di suo padre, diventato malvagio nell'esistenza dell'aldilà. Non era uno che credeva nel soprannaturale, ma Santa Claus gli aveva cambiato idea su molte cose. Dopo un po' fu anche costretto ad accettare che lui sarebbe sempre tornato. Era il Natale che aveva causato la morte di suo padre. Era il Natale che aveva causato l'arrivo di Santa Claus. La testa di Evan si lasciò cadere sul cuscino. La scuola era finita settimane prima, ma temeva ancora il giorno successivo e tutti i giorni a venire fino a Natale. Santa Claus sarebbe rimasto in giro per un po' dopo Natale, poi sarebbe lentamente svanito ed Evan sarebbe stato finalmente libero dalla sua presenza tra febbraio e novembre, quindi avrebbe potuto dimenticare il Natale o fingere che non sia mai esistito. Ma non importa cosa, Santa Claus sarebbe sempre tornato ed Evan era sicuro che non sarebbe mai stato libero dalla sua esistenza demoniaca. Evan si svegliò presto e si alzò dal letto, aprendo il suo portatile senza preoccuparsi di tirare le tende o accendere la luce. Voleva andare online, controllare i social, giocare o fare qualsiasi altra cosa per distrarsi dal Natale e soprattutto da questo demone. Passarono un'ora o due prima che Evan si sedesse a fare colazione con dei Corflakes, quando la madre si era alzata dal letto. Sua madre si era tagliata fuori dalla società un po' dopo essere diventata inaspettatamente vedova, sviluppando un forte caso di depressione. Alla fine era arrivata a patti con la morte di suo marito ed era diventata una madre più amorevole che mai, ma aveva ancora le sue brutte giornate. A volte Evan si chiedeva se anche Santa Claus fosse nella sua mente. Entrambi si sostenevano molto l'un l'altro, ma Evan non poteva fare a meno di sentire che la casa era solitare ogni tanto. Evan aveva raccontato a sua madre di Santa Claus per i primi anni dopo la morte di suo padre, ma poi aveva deciso di fingere di averlo superato. Non voleva più aggiungere altro peso alla vita di sua madre e l'ultima cosa che voleva era far sembrare che fosse ancora un bambino. Ma Evan non poteva nascondere le convulsioni. Non riusciva a nascondere il fatto che a volte era assorbito da un'allucinazione, spesso riguardante Santa Claus. Ma la madre sembrava dare colpa al trauma che aveva ricevuto dopo la morte di suo padre. Certo, forse non tutti i bambini avrebbero sperimentato quel tipo di trauma, ma tutti sono diversi, no? Evan salutò la madre e continuò a mangiare i suoi cornflakes. Il cammino era direttamente alla sua destra ed egli si immaginò un angolo di rosso con la coda dell'occhio. Girò la testa. Niente. Paranoia. O forse il Babbo Natale demoniaco gli stava giocando brutti scherzi. Ad ogni modo, Evan non voleva vedere di nuovo Santa Claus. L'aveva già visto, cinque volte prese a tezza, e l'avrebbe visto una sesta volta, come ogni vigilia di Natale, alle 8.13, esattamente quando era caduto suo padre, ed era sempre lì a guardarlo apparire. Fu allora che Evan decise che quest'anno sarebbe stato preparato. Non sarebbe stato diverso da qualsiasi altro anno. Gli artigli di Babbo Natale apparivano nel cammino esattamente nello stesso momento dell'anno precedente, e dell'anno precedente ancora e ancora. La mamma non andava mai in giro. Andava sempre a letto presto alla vigilia di Natale, o restava a letto tutto il giorno. Questa volta non sarebbe stato solo a guardare Santa Claus. L'avrebbe distrutto una volta per tutte. Quel giorno Evan si limitò a stare in casa, o più precisamente nella sua camera da letto. Si distrasse con videogiochi e altro, mentre stava in realtà pianificando di come sbarazzarsi di Santa Claus. Gli venne in mente che suo padre, quando era ancora in vita, aveva un fucile da caccia appeso a un gancio nel muro. Dopo la sua morte era stato nascosto nel suo guardaroba, che era, ovviamente, nella camera da letto in cui dormiva sua mamma. Un'arma da fuoco era il metodo migliore di Evan, ed era l'unica cosa a cui potesse pensare che potesse uccidere questa entità. Cos'altro avrebbe potuto fare? Gridare qualche parolaccia o attaccarlo a mani nude? Il vecchio fucile da caccia di suo padre morto era l'unica soluzione. L'unico problema era tirarlo fuori dall'armadio senza che sua madre lo scoprisse, e sicuramente si sarebbe insospettita se lo avesse visto prendere un'arma dall'armadio. Tuttavia si rivelò un compito più semplice di quanto sembrasse. Quando sua madre uscì a fare un po' di shopping, Evan andò direttamente alle porte del guardaroba e iniziò a scavare tra i vestiti. Egli aveva appena visto l'arma quando un'improvvisa scossa gli attraversò il corpo. I suoi muscoli erano paralizzati, le articolazioni invece erano congelate. Non fu in grado di fare altro che fissare impotente mentre cadeva all'indietro sul pavimento di legno. Scariche elettriche gli attraversavano il corpo, che ora si contraeva follemente sul pavimento. Ombre danzarono davanti ai suoi occhi quando iniziarono le visioni. Vide suo padre ed uno scheletro coperto di cenere che indossava un cappello da Babbo Natale, che lo guardava attraverso orbite vuote. Vide un albero di Natale decorato con arti insanguinati, organi, e quello che sembrava un intestino disfatto. Vide artigli arricciarsi davanti ai suoi occhi, artigli che lo avrebbero tagliato in due se avesse anche solo abbattuto le palpebre. All'improvviso sentì la macchina di sua madre entrare nel dialetto. Freneticamente i suoi occhi guizzarono alla ricerca del fucile da caccia. Qualcosa di sottile nero che spuntava da una pila di vestiti attirò la sua attenzione. Il fucile! Lo afferrò e si precipitò verso la sua stanza, non ricordandosi di chiudere la porta del guardaroba. Aveva appena raggiunto la sua camera dal letto quando sua madre aprì la porta d'ingresso. Fu solo quando sua madre lo chiamò più o meno un'ora dopo. Evan hai passato... Ma ancora sto hai passato? Basta! Fu solo quando sua madre lo chiamò più o meno un'ora dopo. Evan hai aperto il mio guardaroba? Che Evan si ricordò di aver dimenticato di chiudere la porta. Eh sì, rispose pensando in fretta. Stavo cercando una giacca, sai, dal momento che tutte le altre mi stanno piccole. Fa anche abbastanza freddo, poi con la neve e tutto il resto. Era orgoglioso che la sua voce non fosse tremolante. Per questo motivo la mamma non approfondi più l'argomento. In quel giorno Evan sperimentò le allucinazioni all'interno del guardaroba. Di solito era peggio in questo periodo, ma era stato fortunato. Gli incubi però non migliorarono quella notte. Il giorno successivo però si rese conto di non avere proiettili per il fucile. Si era dimenticato di cercarli nel panico per uscire dalla stanza prima che sua madre lo vedesse. La madre non uscì quel giorno, ma lui decise di dare un'occhiata nel suo guardaroba e, se glielo avesse chiesto, avrebbe ripetuto la stessa bugia di ieri. Dopo aver rovistato seriamente, trovò tre proiettili vaganti nascosti in un angolo del guardaroba in un involucro di plastica. Questa volta non si dimenticò di chiudere la porta del guardaroba. Si mise in tasca i proiettili nel caso in cui sua madre dovesse passare nel corridoio, ma non passò. Il piano sembrava aver avuto successo. Quel giorno Santa Claus parlò con Evan. Le sue parole gli risuonarono nella testa, ma lui sapeva bene a chi appartenevano. E li scoprì in seguito di non ricordare più la maggior parte del discorso, ma sapeva che aveva qualcosa a che fare con il suo piano di uccidere il demone. Tuttavia, non era disposto a rinunciare così in fretta. Il 22 dicembre, Evan non solo ascoltò questo demone e sperimentò le sue visioni, ma lo sentì addirittura sulla propria pelle. Ad un certo punto sembrava quasi che un gatto gli stesse facendo scorrere gli artigli sul braccio, ma non c'era nessuno. Tuttavia, ciò non impedì al sangue di scendere. E quando la madre gli chiese cosa gli fosse successo al braccio, egli rispose che Stormo lo aveva graffiato. Evan aveva infatti un vecchio gatto bianco soriano chiamato Stormo, e non era estraneo ai suoi graffi. Sua mamma non notò le convulsioni e le allucinazioni, semplicemente perché Evan si era confinato nella sua stanza per tutto il giorno. Fu un'esperienza bruttissima, ma Evan sapeva che doveva farlo per evitare i sospetti. La madre pensò che tutto fosse per ciò che era accaduto a suo padre, collegandolo al trauma passato, e di conseguenza sentendo il bisogno di isolarsi da ciò a cui era stata collegata l'esperienza. Il 23 dicembre passò rapidamente, ma il 24 fu il giorno peggiore che visse finora. Trascorse gran parte del suo tempo tormentato dalla presenza demoniaca di Babbo Natale. I suoi messaggi spaventosi li risuonavano nelle orecchie. Sua madre entrò anche nella stanza mentre stava avendo un attacco sul letto, ma fu in grado di evitare i sospetti dicendo che era nel mezzo di un incubo. Il tempo trascorse, mentre Evan divenne sempre più tormentato. La madre andò a letto presto, come faceva di solito alla vigilia di Natale. Ciò gli lasciò altre due ore prima che Santa Claus apparisse. Come ogni anno, Evan fu davanti al cammino alle 8 e 13, ma questo perché Santa Claus voleva che lui fosse lì. Aveva sentito le gambe muoversi, e non era riuscito a fermarle. Questo è il motivo per cui Evan si era assicurato di avere il fucile ben stretto tra le mani prima che arrivasse il momento. Lanciò un'occhiata nervosa all'orologio. Era terrorizzato. Arrivarono le 8 e 13, ma non successe niente. Ma quando la lancetta scoccò a 20 secondi, egli sentì le sue gambe muoversi lungo il corridoio verso il salone. Le sue mani aprirono la porta del salotto. Si avvicinò al cammino. Le tende erano tirate, le luci erano spente. Era buio, ed Evan non vedeva altro che la sagoma di quel demone davanti al camino. Poteva vedere il contorno di un cappello di Ababbo Natale in testa, e notò degli artigli che pendevano sul lato dell'ombra. Sentiva la presenza di Santa Claus. Sapeva che presto sarebbe stato illuminato da una luce spettrale, e sarebbe stato in grado di vederlo in carne ed ossa. Quindi avrebbe alzato il fucile, avrebbe premuto il grilletto, e sarebbe stata finita. O almeno così sperava. Quell'attimo sembrava un'eternità. Poi apparveno le orbite vuote e sanguinanti. Quella pelle bianca, quasi trasparente. La dentatura affilata e insanguinata che mostrava da dietro le labbra viscide. L'abito di Ababbo Natale a brandelli macchiato dal sangue di vittime innocenti. E, peggio ancora, la lunga serie di artigli affilati su ogni lato. Evan era terrorizzato. Rimase paralizzato dalla paura mentre il finto Ababbo Natale sorrideva e alzava le mani verso di lui. Non era in grado di muoversi, incapace di fare altro che guardare mentre gli artigli si avvicinavano sempre di più a lui. Adesso era troppo tardi per sparare. Era tutto finito. Ma quando Evan rimase congelato, i suoi muscoli si rigidirono e il dito si strinse attorno al grilletto. Ci fu un botto eccezionale e un lampo accecante di luce. Il mondo improvvisamente diventò nero. Egli si svegliò con la madre che lo scuoteva freneticamente. Sbatté le palpebre cercando di capire cosa fosse successo. Poi si ricordò. Aveva ucciso Santa Claus. La mamma gli disse che aveva sentito un botto ed era entrata per vedere quale fosse il rumore. Quando lo vide notò che teneva in mano il fucile da caccia ed il suo primo pensiero fu che Evan si fosse sparato. Ma dopo non vide alcuna ferita da proiettile e si rese conto che stava ancora respirando. Egli era esausto ma troppo felice per commentare. La sua faccia si apri con un sorriso. L'ho fatto! Sussurrò. La mamma sembrava preoccupata. Non stai bene Evan. Andremo da un dottore il prima possibile. Sono preoccupata per te. Ho ucciso Santa Claus. Balbettò lui. Ignaro delle preoccupazioni di sua madre. Fu sopraffatto dalla gioia che quel demone non sarebbe stato più nella sua vita. Tutto sembra essere finito nel verso giusto vero. Ma come ricorderete dal titolo questa non è una favola di Natale. Non sono solo preoccupata per te Evan. Sono anche abbastanza arrabbiata con te. Disse la mamma. Le sue sopracciglia si incresparono in un'espressione accigliata. In qualche modo hai vandalizzato il camino. Sembra uscito da un film dell'orrore. Evan non capì. Non ho mai vandalizzato il camino. Disse. La mamma sospirò. Allora come lo spieghi questo? Disse indicando il camino. Evan girò la testa per guardare il camino. Sul muro di mattoni dietro erano state scritte solide lettere color rosso cremisi. La vernice sembrava fresca ed Evan poteva vederlo ancora gocciolare giù dal muro. Ma non era pittura. Si rese conto Evan. Era sangue. E quella scritta diceva Oh oh oh. Sto arrivando.